Oggi vi mostrerò tre esercizi a corpo libero per allenare i tricipiti. Se nello scorso video abbiamo visto esercizi semplici, oggi vedremo esercizi di difficoltà superiore. Primo esercizio, tricipiti a terra o piegamenti sulle braccia a passo stretto. Da questa posizione, mani larghezza a spalla, vi abbassate col gomito stretto e vi risollevate. In questo modo. Secondo esercizio, tricipiti a terra o french press inversi a corpo libero. Mani a terra, sempre larghezza delle spalle, avambraccio appoggiato a terra e da questa posizione vi sollevate, vi abbassate e vi sollevate. L'avambraccio va nuovamente a terra e poi vi distendete verso l'alto. In questo modo. Terzo esercizio, piegamenti sulle braccia a una mano sola col gomito stretto. Quindi una mano a terra centralmente, gambe leggermente divaricate e da questa posizione vi abbassate e poi vi risollevate. Vi abbassate e poi vi risollevate. Questi tre esercizi, piegamenti sulle braccia a passo stretto, tricipiti a terra o french press inverso a corpo libero e piegamenti sulle braccia ad una sola mano, sono perfetti per allenare i tricipiti in modo intenso. Iscrivetevi al mio canale YouTube per rimanere aggiornati con i miei video e andate sul mio sito studiomiletto.com per scaricarvi le guide gratuite per allenarvi a corpo libero e con semplici attrezzi funzionali. Ci vediamo al prossimo video!